Dopo il grande successo della mostra di Fiorentina 2006 del Giappone nel 2007 in Lugheria e California, la mostra intitolata La Mente di Leonardo approva a Roma in Palazzo Venezia. Divisa in quattro sezioni con modelli funzionanti, ricostruzioni, disegni originali e un importante supporto multimediale, fa comprendere come Leonardo, scienziato, scrittore e pittore, sia un unicum creato dalla sua mente, applicato trasversalmente in varie forme. Questa importante esposizione scientifica ben allestita, grazie al supporto multimediale con accesso a contenuti interattivi e visualizzazioni di opere perdute, mette in luce come il pensiero di Leonardo sia stato un unicum, che il genio ha poi applicato trasversalmente in varie forme, articolando il suo lavoro per concetti, nella forma di tematiche e sintassi, movimento preso da natura e rappresentazione, con una sostanziale unitarietà nella concettualizzazione e nel metodo di analisi. Un'esposizione scientifica, culturalmente elevata, che grazie alla multimedialità diviene anche divulgativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.